Parlo del San Paolo, parlo dell'Unicredit, queste grandi organizzazioni nazionali e anche multinazionali hanno assommato profitti per miliardi solo un anno fa e certamente non hanno diviso questi profitti con i lavoratori. Ora, siccome i loro profitti non basano più ai loro interessi, chiedono ancora una volta la che nel sangue a noi e abbiamo governi pronti a diffondere il denaro nostro in favore di queste persone. L'Unicredit, la giornata di oggi segna, ripeto, una differenza di impostazione, di metodo e soprattutto chiediamo che nessuno abbassi la guardia perché nonostante la rubata su temi o su altri accordi con quello del pubblico impiego, dove vi ricordo che è stato firmato un accordo che prevede 60 euro l'ordine al laser per lavoratori.